Quasto all'auto di Spank Oh, che bella giornata! Oggi potrò fare una bellissima passeggiata a Corso Mazzini Ora prendo la mia macchina e parto subito in viaggio a Corso Mazzini Bene Eccomi Allora entro Bene, cominciamo il viaggio Ma, che succede all'auto? Perché non va? Vabbè, vi provo Ma, che ne succede? Boh, ci sarebbe stato qualche guasto Vediamo un po' il motore Non riesco a capire che cosa c'è che non va Non capisco che cosa c'è che non va Devo chiamare gli assistenti dell'autoripara.it Perché loro sanno cosa fare Adesso chiamiamo sul telefono Ecco il telefono. Vediamo. Premiamo qua. Pronto? Oh ciao assistenti riparauto.it. Oh ciao Spank, che cosa c'è che non va? La mia macchina ha qualche guasto, però non riesco a capire che cosa c'è che non va. Dovete intervenire subito. Fate presto. Io volevo fare una gita a corso Mazzini, però l'auto ha qualche guasto. Per favore. Sì, andiamo in un lampo. Ciao ciao. Ciao. Speriamo che arrivano presto. Io devo fare una gita a corso Mazzini, non posso dimenticarmelo. Oh che brutta gita a piedi. Eccoci Spank. Siamo venuti a capire il difetto della macchina. Eh sì, la mia macchina per questo non parte e non so proprio cosa c'è che non va. Non capisco che cosa c'è che non va. Ah, controlliamo il motore. Dobbiamo scoprire che cosa c'è che non va. Sembra tutto a posto. Vediamo un po'. Sembra che ci sia qualche difetto che non hai fatto. Oh, perché l'auto non parte? Bill, ci pensi tu in questo caso? Io non so proprio cosa c'è che non va. Certo Steffi. Faccio subito. Vediamo un po'. Oh, ma ha bisogno di tanta benzina Spank. Ogni volta ci sei andato a fare benzina. Non tanto vado a fare benzina, però la mia macchina è sempre veloce. Va in un lampo e fa flash. Mi sa che ci vuole tanta benzina. Controlliamo bene, dai Spank. Sì, ci vuole davvero la benzina. Ora vai dal carrozziere e ti farà la benzina. Sì, però come faccio? La macchina non va. Fammi provare. E' vero Spank, non va alla macchina. Quindi c'è bisogno che la dobbiamo fare noi. Bene. Adesso sfogliamo questo cerchietto, questo buchetto, questo foro. Ecco qui. Vediamo nella nostra borsa se c'è qualche benzina. Ecco, un tubetto pieno di benzina. E mettiamolo qui. Bene. Ora prova l'auto. Va bene. Non sono d'accordo. Ma ci provo. Grazie assistenti sociali riparauto.it Grazie a te Spank. Ciao, ciao. Buon viaggio. Ciao. Ragazzi lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ciao.